Non si frena l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio sul territorio del comune di Agropoli. Il personale della Polizia Municipale, diretto dal comandante Maggiore Sergio Cauceglia, nella giornata di ieri su impulso del sindaco Adamo Coppola, ha sottoposto a sequestro preventivo un fabbricato in località Madonna del Carmine, in corso di realizzazione in quanto realizzato in totale difformità al permesso di costruire assentito e successivi titoli invariante. A fronte di un fabbricato assentito di unico livello con piano interrato, quest'ultimo era stato realizzato completamente fuori terra, comportando un aumento di volumetria utile superiore a 450 metri cubi. L'attività è stata coadiuvata da personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, condotta in collaborazione con il gruppo Nita, seguirà ordinanza di demolizione.